Sindrome di Tourette, i 5 sintomi per riconoscerla La sindrome di Tourette, noto anche come disturbo di Tourette, è un disturbo neurologico caratterizzato da movimenti ripetitivi involontari e vocalizzazioni chiamate TIC. Questa sindrome prende il nome dal medico francese Georges Gilles de la Tourette, che la descrisse per la prima volta nel 1885. La comprensione di questo disturbo si è notevolmente evoluta negli anni, consentendo diagnosi più precise e trattamenti efficaci. In questo articolo, esploreremo le cause, i sintomi principali per riconoscerla e le cure disponibili per la sindrome di Tourette. Cause La causa esatta della sindrome di Tourette rimane sconosciuta, ma la ricerca suggerisce una combinazione di fattori genetici e ambientali. Studi hanno identificato alcune varianti genetiche che possono aumentare il rischio di sviluppare il disturbo, suggerendo una forte componente ereditaria. Inoltre, fattori ambientali come complicazioni durante la gravidanza, basso peso alla nascita e infezioni possono giocare un ruolo nel suo sviluppo. Sintomi per riconoscerla Identificare la sindrome di Tourette può essere complicato a causa della vasta gamma di tic che possono variare in intensità e frequenza. Tuttavia, ci sono cinque sintomi chiave per riconoscerla. Tic motori semplici, movimenti improvvisi e brevi che coinvolgono un gruppo limitato di muscoli, come ammiccare, alzare le spalle o fare smorfie. Tic motori complessi, movimenti più coordinati che coinvolgono diversi gruppi muscolari, come saltellare, toccarsi ripetutamente parti del corpo o fare gesti. Tic vocali semplici, suoni improvvisi e brevi, come tossire, schiarirsi la gola o emettere suoni non verbali. Tic vocali complessi, parole o frasi pronunciate involontariamente, che possono includere ecolalia, ripetizione delle parole degli altri, coprolalia, uso involontario di parole scurrili, e palilalia, ripetizione delle proprie parole. Variabilità dei Tic I Tic tendono a variare nel tempo sia in frequenza che in tipologia. Possono essere influenzati da fattori come stress, ansia, stanchezza o emozioni intense. Cure Sebbene non esista una cura definitiva per la sindrome di Tourette, diverse strategie di trattamento possono aiutare a gestire i sintomi. Medicinali Farmaci neurolettici come la risperidona e la fimozide possono essere prescritti per ridurre la severità dei Tic. Antidepressivi e stimolanti possono anche essere utilizzati per trattare sintomi concomitanti come l'ADHD o l'ossessione compulsione. Terapia comportamentale La terapia di abitudine inversa e la terapia di esposizione e risposta alla prevenzione possono essere efficaci nel ridurre la frequenza e l'intensità dei Tic. Educazione e supporto Informare il paziente, la famiglia e l'ambiente circostante sulla natura del disturbo può contribuire a creare un ambiente di supporto che riduca lo stress e l'ansia associati ai Tic. Interventi chirurgici In casi estremamente rari e severi, possono essere considerati interventi chirurgici come la stimolazione cerebrale profonda di BS. La gestione della sindrome di Tourette richiede un approccio olistico e personalizzato, tenendo conto delle esigenze specifiche del paziente. Con il supporto adeguato, molti individui con sindrome di Tourette possono condurre vite produttive e soddisfacenti. È fondamentale ricordare che il disturbo varia notevolmente da persona a persona, e ciò che funziona per uno potrebbe non essere efficace per un altro. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti.